commento al vangelo per la quarta domenica di quaresima e così siamo giunti alla quarta domenica di quaresima domenica conosciuta come letare cioè della gioia e così nonostante la penitenza che caratterizza questo tempo siamo chiamati a gioire e ci domandiamo perché il vangelo di oggi ci è di aiuto dice giovanni dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenico perché chiunque creda in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna allora come possiamo non gioire per questo il signore ci ama a tal punto che vuole ad ogni costo la nostra salvezza e ci dona la luce viene ad illuminare la nostra vita ci dona la possibilità di abbandonare il buio pesto dei nostri sepolcri allontanandoci dalle tenebre e dal fallimento del nostro peccato noi carissimi siamo abbracciati da così grande amore che a volte facciamo fatica ad accorgerti siamo circondati dall'amore purifichiamo allora il nostro sguardo se ci riconosciamo amati avremo la possibilità di amare e collaborare al progetto di salvezza buona domenica a tutti